Se state cercando il video dove viene spiegato in maniera dettagliata il motivo di questo dump di Bitcoin, vi informo già da ora che non è questo il video. Allora andiamo ad analizzare noi invece il movimento tecnico di Bitcoin, sia su 4 ore sia su time frame inferiori, e vediamo se era, diciamo, calcolabile o meno, preventivabile o meno questa situazione. Io direi di cominciare con innanzitutto una panoramica generale, avevamo visto, scusate sto litigando con il microfono, avevamo visto questi due bei movimenti di Bitcoin a salire da questo rettangolo prima, poi questo rettangolo che è stato rotto con una candela long di accettazione, e diciamo che la struttura andava, almeno fino a questo momento, per una situazione long. Invece che cosa è successo? Ieri anche in questi giorni c'è stato questo FAD, diciamo, di FTX, poi c'è stato il dato dell'elezione di metà mandato, insomma, ci sono state delle situazioni un pochino più globali che hanno fatto poi succedere questo dump. Però andiamo ad analizzarlo in maniera tecnica, ok? Perché, come vi avevo detto, non volevo analizzarlo del perché e per come in base alle notizie. Allora, partiamo subito da questo momento, ovvero questo momento qui dove spesso, e l'avevo scritto anche sul mio canale Telegram, prima di qualche notizia importante si crea sempre questa geometria, ecco ripeto, chiamatela triangolo, chiamatela come volete, andiamo un attimo sul time frame inferiori in modo tale da analizzarlo proprio in dettaglio. Guardate che cosa fanno. Fanno queste geometrie, ok? Queste geometrie in genere vengono spiegate almeno su quello che leggevo io un po' di anni fa e dicevano guarda che quando rompe il triangolo tu entri long, ok? Metti lo stop loss, ecco, un qualcosa del genere sul precedente minimo, sulla base del triangolo, ci sono mille interpretazioni di questa cosa, noi facciamo finta che questo sia il minimo di riferimento, ok? Questo sia il minimo di riferimento, si mette lo stop loss sotto questo minimo di riferimento e si va a cercare una posizione del, non so, 1 a 3, 1 a 2, facciamo 1 a 2, che comunque è difficile, è difficile perché? Perché come vedete il prezzo che cosa fa? Rompe, guardate eh? Rompe il triangolo e spesso va nella direzione opposta, prende lo stop loss, qui ovviamente, ma anche no, ovviamente no, non è vero, si potrebbero aprire le posizioni short allo stesso modo, ok? Non do livelli perché io non trado queste figure, quindi non saprei come entrare, perché lo facevo tanti anni fa, perché dicevano che la rottura di questi triangoli si poteva entrare, ma stavi qui ad aspettare il momento perfetto per entrare, poi in genere si prendevano sempre gli stop loss, questo vi parlo di un sacco di anni fa, il trading cambia ovviamente, quindi vi volevo dire, quando vedete questi triangoli qui, mi raccomando, sono figure molto difficili perché, ripeto, possono andare su una direzione e poi avere un improvviso impulso nella parte ovviamente opposta, quindi cancelliamo questo triangolo, però mi andava di farvelo vedere perché sono figure che si creano spessissimo, queste fasi laterali, questi triangoli, quindi stateci, dateci un occhio perché lo vediamo, si vedono spesso. Qui abbiamo visto un doppio minimo e qui sicuramente i trader sono entrati a prendersi questa move, qualcuno l'avrà presa, qualcuno no, ma ecco, diciamo, non è questo anche qui le mie operazioni di trading. Io che cosa avevo? Avevo detto, guardate che a 21.300, che è questa zona più o meno qui, attenzione perché, perché qui si potrebbero innescare degli ordini long e quindi il prezzo sarebbe potuto salire in maniera repentina. Cosa succede? Probabilmente qualche ordine long è stato anche aperto, ma guardate con che impulsività siamo andati a far chiudere gli stop loss di chi rompe a breakout, ok? Che cosa vuol dire? Ci ho fatto anche un video, questo era il precedente massimo di riferimento, chi lavora a breakout lavora con una posizione long alla rottura di questo precedente massimo. In questo caso ha avuto un temporanei profit e poi probabilmente, anzi sicuramente, si è beccato lo stop loss, ma ripeto, sono tecniche di trading che ho già spiegato su un altro video. Noi andiamo ad analizzare la nostra entrata, quindi guardate, io vi ho fatto vedere questa possibile entry long e vi avevo detto, guardate, andiamoci, andiamo, andiamoci, andiamo ad aspettare questo impulso dove finirà, ok? Perché questo impulso ha rotto questo precedente massimo di riferimento, dove andrà a finire l'impulso noi posizioneremo il 75%, all'inizio si poteva pensare che era questo, ma poi non ha rotto con candele di accettazione questo minimo di riferimento qui, e quindi siamo andati a cercare, eccolo, l'impulso, quindi il massimo e il minimo dell'impulso e andiamo con lo 0,75 in zona 19.300, ok? Andiamo adesso sul 15 minuti a vedere che cosa ha fatto, è stato innescato l'ordine in questa zona qui, posizione long, lo stop loss andavamo a prendere il minimo di riferimento, quindi, eccolo, il minimo che avremmo preso, questo è il primo minimo, chi voleva stare largo avrebbe preso questo minimo di riferimento, e guardate che cosa è successo, praticamente è stata presa in pochissimi minuti l'operazione, poi, 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 che cosa è successo? Purtroppo abbiamo avuto questo, intanto questa è l'operazione, ve la lascio, ma è stata veramente un'operazione velocissima, cosa vediamo qui? Vediamo che è fatto un range di prezzo, guardate, range di prezzo, 7% a salire, dato, bang, guardate, con due ore, ok, abbiamo avuto meno 18%, tradare con queste volatilità per me è molto difficile, quindi io ho preso questa operazione ma non avevo intenzione di entrare, poi avevo da fare, quindi non sono proprio stato davanti al grafico ad aspettare un entry, anche se probabilmente l'operazione poteva andare a profitto con un bello short, ma ripeto, non era il mio modo di tradare, io il mio modo di tradare ve l'ho fatto vedere con questo video, con questa entry, potete tranquillamente andare a vedere il precedente video dove dicevo che avrei fatto questa entry. Comunque, detto questo, analizzare questo impulso, secondo me, lascia un po' il tempo che trova, perché come vedete è stato un impulso molto forte, dato appunto dal dato, ma come avevamo visto sul canale di Riccardo e sul canale di Mauri, di Mauri scusate, andate a vedere il link in descrizione, nelle elezioni di metà mandato, sia nel 2014 che nel 2018, ci sono stati questi dump, andatelo a vedere nel loro gruppo, iscrivetevi se non l'avete fatto, perché sono gruppi interessantissimi, e andatevi a vedere, i link sono sotto. Ora che cosa ci rimane di aspettare? Torniamo sulla zona delle 4 ore, andiamo a vedere quando e come potrebbe, se nel caso ci dovesse essere una ripartenza, come sarà questa ripartenza. Allora, innanzitutto questa shadow lunghissima, attenzione, perché questa shadow tende ad essere riassorbita, riassorbita chi dice al 50%, chi dice, qui non voglio stare a dire le percentuali, ma in sostanza molti entrano al 50% di questa shadow per cercare poi un rimbalzo. Guardiamo, guardiamo perché io in questo momento direi di stare più lontano possibile da questi grafici, perché è veramente, veramente complicato. Qui avremo, come vedete, una fase di lateralità, anche qui si sta venendo a formare una specie di triangolo, ma, ripeto, tradare questo per me è molto difficile, non è né la mia strategia, non ho ben chiaro il mercato di come potrebbe essere in questi giorni, quindi ne sto alla larga. Se dovessi fare delle operazioni, ovviamente non tutte quelle che faccio, ma vi spiegherò nel caso ci fosse la possibilità di entrare e fare un'operazione. Io direi che il video può finire qui, vi avevo detto che vi avrei dato le informazioni, sia per quanto riguarda l'operazione quella lì che bisogna fare quando si formano dei triangoli, come abbiamo visto, e l'operazione che ho fatto, che è andata a Take Profit, ma mi andava di condividerla perché l'avevo già postata sul precedente video e vi spiego il perché e come faccio ad entrare, va bene? Quindi io questo video lo finirei qui, vi ringrazio, vi saluto e alla prossima. Ciao a tutti!